Ecco siamo ad Ancona nella centralissima piazza Cavour, qui vediamo il viale che poi porta verso la zona del mare, questa è la piazza, qui vediamo la centralissima via Garibaldi che arriva fino al porto qua ci sono le fermate delle corriere ecco qui siamo sul corso Garibaldi che è in zona pedonale ecco qui ecco qui stiamo andando in piazza Stamira che è proprio la adiacente a piazza Cavour e dove ci sono i parcheggi sotterranei ecco qui vediamo l'ingresso per i parcheggi sotterranei che si trovano proprio sotto la piazza ecco qui 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 ecco qui